Musica Vogliamo pregare oggi anche per quelli che hanno colpito il mio papà, perché senza nulla togliere alla giustizia che deve trionfare, sulle nostre bocche ci sia sempre il perdono e mai la vendetta, sempre la vita e mai la richiesta della morte degli altri. Parole di perdono, quelle che abbiamo ascoltato, parole di perdono e di vita. Sì, perché pronunciare parole di perdono non è pronunciare parole al vento. La parola di perdono fa rifiorire la vita, è parola di risurrezione. Proseguiamo così il cammino di riflessione condivisa che abbiamo iniziato la settimana scorsa, a partire dalla proposta del nostro Vescovo Angelo per questa Quaresima. La misericordia è la chiave del cielo, ci siamo detti, perché fa entrare nel mistero del Dio amore. Quella stessa misericordia, se accolta, si fa perdono tra di noi, diventa una chiave che può aprire le porte spesso sbarrate dall'indifferenza, dal sospetto, dalla discriminazione. Spesso è il dolore per il male subito che ci fa rinchiudere, ci fa stare separati. Il perdono, invece, riapre porte chiuse, abatte barriere, ricostruisce strade distrutte. A partire dal perdono, si può costruire un nuovo modo di essere comunità, anche nei popoli dilaniati dalla guerra, dalla discriminazione e dall'odio razziale. In questo secondo appuntamento, allora, ci lasciamo ancora guidare dalla parola di Dio, che ascoltiamo risuonare nell'insegnamento dei nostri pastori e nella testimonianza di tanti fratelli e sorelle. Dal Vangelo secondo Luca Siate misericordiosi come il Padre vostro è misericordioso. Non giudicate e non sarete giudicati. Non condannate e non sarete condannati. Perdonate e sarete perdonati. Date e vi sarà dato. Una misura buona, pigiata, colma e traboccante vi sarà versata nel greco, perché con la misura con la quale misurate sarà misurato a voi in cambio. La messaggio di Papa Francesco per la Quaresima 2020 è salutare e contemplare più a fondo il mistero pasquale, grazie al quale ci è stata donata la misericordia di Dio. L'esperienza della misericordia, infatti, è possibile solo con un faccia a faccia, con il Signore crocifisso e risorto che mi ha amato e ha consegnato se stesso per me. Un dialogo a cuore aperto, d'amico ad amico, ecco perché la preghiera è tanto importante nel tempo paresimale. Prima che essere un dovere, essa esprime l'esigenza di corrispondere all'amore di Dio che sempre ci precede e ci sostiene. Il cristiano, infatti, prega nella consapevolezza di essere indegnamente amato. La preghiera può assumere forme diverse, ma ciò che veramente conta agli occhi di Dio è che essa scavi dentro di noi, addivando a scarpire la durezza del nostro cuore per convertirlo sempre più a Lui e alla Sua volontà. Dalla lettera per la Quaresima 2020 del nostro Vescovo Angelo Dio, che è misericordia, si rivela donando vita e invitando anche noi a vivere, partecipando della Sua misericordia. Nel Vangelo di Giovanni, Gesù dice Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. La pienezza della vita, del bene nella Sua verità, la nostra comunione con la vita eterna, con l'infinito, e nel vivere con Gesù la misericordia del Padre. Poiché abbiamo la grazia di contemplare la presenza di Dio che ci dona la Sua misericordia e di essere vivi per il dono della Sua vita, come Gesù, siamo chiamati ad essere sempre pieni di misericordia verso i fratelli, a donare con generosa e limitata il bene che Dio Padre ci dona in maniera illimitata. Proprio in questo tempo santo della Quaresima, la tradizione della Chiesa ci fa cantare spesso Ubi Caritas et Tamor Deus Ibi Sest Dov'è carità e amore? Ibi è Dio Troveremo Dio laddove cercheremo l'amore vero, l'amore puro, incondizionato e senza limiti, l'amore che è vita e dona vita. Dalla lettera Misericordia et Misera del Santo Padre Francesco Il perdono è il segno più visibile dell'amore del Padre che Gesù ha voluto rivelare in tutta la sua vita. Non c'è pagina del Vangelo che possa essere sottratta a questo imperativo dell'amore che giunge fino al perdono Perfino nel momento ultimo della sua esistenza terrena mentre viene inchiodato sulla croce Gesù ha parole di perdono Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Mi piacerebbe quando sarà il momento di sporre di un lasso di lucidità che mi permetta di sollecitare il perdono di Dio e quello dei miei fratelli in umanità così come di perdonare di tutto cuore a chi mi avrà ferito. E anche tu amico dell'ultimo minuto che non ti sarai reso conto di quello che stavi facendo Sì lo voglio anche per te questo grazie e questo addio programmato da te e auguriamoci di poterci ritrovare ladroni beati in paradiso se lo vuole Dio nostro padre di tutti e due Amen Inshallah Dalla lettera per la quaresima 2020 del nostro Vescovo Angelo La grandezza della misericordia di Dio si manifesta a noi nella sua totale disponibilità a donarci il perdono che come nella parabola evangelica in cui Gesù narra che un padre che attende e raccoglie il figlio da perduti ci dona di essere ritrovati in se stessi e con gli altri da morti ci fa tornare alla vita allora comprendiamo che perdonare non significa dimenticare anzi al contrario significa ricordare la verità di ciò che siamo e la misericordia che ci salva ci mettiamo adesso in ascolto di una testimonianza viva abbiamo contattato una nostra sorella Lina che viene da un'esperienza forse lontana dalla nostra e anche lei ha da dirci qualcosa sul perdono Lina innanzitutto ti puoi presentare puoi dire chi sei sì ciao ciao a tutti come ha detto padre Armando io sono Lina io sono di origine palestinese e faccio parte del movimento dei focolari e ora sono a Napoli avrei voluto veramente conoscervi personalmente come era previsto ma con la situazione che in tutto il mondo stiamo vivendo ci presentiamo con questi mezzi di comunicazione io ho vissuto a Gerusalemme e a Damasco durante le guerre questo periodo mi ha fatto pensare a questi momenti al coprifuoco a tanta gente che ha perso tutto che forse vivono anche in situazione peggio della nostra Lina puoi raccontarci qualche momento della tua vita in cui senti di aver imparato qualcosa in più su cosa significa perdonare sì e prima io volevo partire dalla perché io ho sentito anche la prima chetechesi della settimana scorsa dove avete parlato e avete preso anche le parole di Papa Francesco quando dice che la chiave del cielo è la misericordia e il perdono io cerco di raccontarvi con tanta semplicità la mia esperienza personale mia mamma è nata a Betlemme e il papà a Gerusalemme ma per causa delle guerre sono trasferite in Giordania dove siamo nati tutti lì io sono cresciuta ad Amman Giordania da piccola andavamo a visitare le zie e i nonni ma dovevamo passare la frontiera non vi nascondo che avevo tanto paura perché dovevamo passare ore e ore a fare lunga fila camminare senza scarpe e qualche volta con un controllo personale fastidioso sono cresciuta con l'idea che gli ebrei sono i nostri nemici quando sono andata a vivere a Gerusalemme in Focolari la città della pace dove non c'è pace ma c'è un conflitto palestinese israeliano che dura da anni con l'ultima antifada la rivolta del popolo palestinese contro lo Stato di Israele la costruzione del muro di separazione o il muro di sicurezza che circonda tutte le città palestinese ha aumentato l'odio fra i due popoli sentivo che dovevo fare qualcosa di concreto così è venuta l'idea con un'altra maestra ebrea di fare incontri con ragazzi ebrei cristiani musulmani ma dentro non sentivo la pace le parole di Gesù amare i vostri nemici era forte sentivo che dovevo parlare con questa maestra apertamente di avere il coraggio di dirla tutto quello che sento e la difficoltà di passare ogni giorno il posto di blocco passando ore è stato un dialogo aperto e lì mi sono sentita riconciliata con me stessa ho sentito dopo che potevamo fare questi incontri con i ragazzi perché era una cosa vera reale non posso dirti quanto hanno portato frutti questo incontro soprattutto durante la guerra di Gaza che sembrava che tutto crollava una chiamata di uno di questi ragazzi chiedendo di pregare insieme cristiani ebrei musulmani per chiedere dono della pace sono stati i momenti più belli un'esperienza che mi ha cambiato da dentro essere riconciliati con noi stessi per avere il coraggio di conciliarsi con gli altri questa grazie grazie molto a Lina Lina ancora una volta ci ha mostrato l'importanza del perdono ma un perdono che nasce da un'esperienza di riconciliazione con il Signore a livello personale questo perdono come abbiamo ascoltato fa rifiorire davvero la vita e apre nuove possibilità apre nuove strade da percorrere insieme grazie a Lina che speriamo poi di poter incontrare di persona più presto veramente grazie e veramente continuiamo a pregare che è veramente di una fede che sposta le montagne che tutto andrà bene grazie e ciao la misericordia di Dio che ci chiama a coltivare e custodire la terra ci edica a chiedere il perdono per ogni forma di abito sfruttamento delle sue potenzialità di vita e per aver spesso abbandonato e sporcato di rifiuti lo spazio utile all'incontro tra gli uomini la misericordia di Dio che ci chiama a vivere in fraternità attenti alla crescita comune ci educhi a chiedere il perdono per il sangue versato in tante forme di proprietà omicida la misericordia di Dio che ci chiama a consacrare l'amore che genera nuova vita ci educhi a chiedere il perdono per ogni forma di vita colmercio dei corpi e della vita di altre persone umane la misericordia di Dio che ci chiama a partecipare con intelligenza e sapienza alla vita della società umana ci educhi a chiedere sempre perdono per ogni forma di corruzione e di strumentalizzazione delle possibilità e dei ruoli occupati la misericordia di Dio che ci chiama alla libertà e alla giustizia ci educhi a chiedere perdono per averne fatto un diritto che spesso impone ai più deboli la pretesa dei forti diciamo grazie ancora ai confratelli ai nostri membri dell'ufficio comunicazione sociale e agli amici che ci hanno aiutato a sviluppare questo momento di riflessione di catechesi ancora che come già abbiamo detto anche nella prima parte della catechesi è andata già in onda nella settimana scorsa abbiamo voluto come realizzare quel momento di vita comune che nella città di Aversa si sarebbe vissuto nel tempo di Quaresima se tutto fosse stato un po' normale purtroppo normale non è stiamo vivendo questi momenti di grande apprezzione oltre che di preoccupazione per il tempo per gli sviluppi del tempo e di fatica perché certamente rimanere fermi è tanto è tanto difficile il pensiero permettetemi di dirlo va non solo a chiunque vive un po' limitato nelle proprie case ma anche a tante famiglie che in questi giorni per la limitatezza delle possibilità economiche e dovute anche alla chiusura di tanti luoghi in cui una forma di attività sia pure non sempre vissuta secondo i canoni e secondo le regole però permetteva in qualche modo di sopravvivere e che invece bloccando tutto adesso ha messo in grande difficoltà tante persone da questo punto di vista certo un saluto particolare ai nostri amici che sono impegnati in Caritas nella comunità di Sant'Egidio nel gruppo dei Vingenziani in tutte le forme insomma di volontariato nelle Caritas parrocchiali e dovunque c'è tanta attenzione bisognosa e quindi ai nostri confratelli sacerdoti che comunque tengono aperte le chiese e cercano di raggiungere tutti i fratelli attraverso i vari mezzi grazie grazie davvero a tutti e questo grazie è anche a voi che ci seguite che avete come dire la disponibilità ad accogliere questo nostro dialogo che vuole aiutarci a vivere intensamente il tempo santo della Quaresima lo abbiamo iniziato con questa riflessione intitolata la chiave del cielo come ricorderete era l'espressione che il Papa usa per ben due volte nei suoi scritti quando parla al mondo intero e la chiave del cielo gli dice è la misericordia e allora abbiamo cercato di riflettere su questo ricordate che dicevamo come l'umanità abbia sempre cercato la chiave del cielo come la possibilità di raggiungere Dio quasi per strappargli qualche cosa che potesse essere utile alla nostra vita per fare forse quel salto di qualità di possibilità che l'umanità sogna a cui l'umanità aspira che sente dentro di sé come un'esigenza per poter vivere in pienezza ed ecco invece che contempliamo in questi giorni proprio della Quaresima ma sempre quando viviamo la nostra fede contempliamo il mistero dell'amore di Dio che viene incontro a noi Gesù dice l'Apostolo Paolo che non considerò come una sua proprietà una sua prerogativa un tesoro geloso il suo essere Dio il suo essere uguale a Dio ma è venuto a dare a noi questa possibilità è venuto a condividere con noi la possibilità di chiamarci figli di Dio e come dice l'Evangelista Giovanni lo siamo realmente allora davvero è questa la chiave del cielo sentire che Dio è presente accanto a noi ed è presente accanto a noi perché ci rivela il suo volto di misericordia se Dio si rivelasse soltanto come pensavano gli antichi come un potere forte un potere che egli cercava in qualche modo di custodire gelosamente per sé una forza che gli permetteva di dominare tutto ciò che è nel mondo beh allora sarebbe giustificata la disperazione di un'umanità che non riesce a raggiungere questa dimensione ma il Signore è onnipotente nella misericordia perché compie ciò che umanamente a noi sembrerebbe impossibile egli che è l'onnipotente viene in mezzo a noi che siamo impotenti che non abbiamo nessuna forza nessuna possibilità e condivide con noi la sua vita spezza con noi il suo pane ci dona il suo corpo e il suo sangue e questo allora avviene davvero permettendoci di incontrare di conoscere la verità di Dio di conoscere il cielo e la terra insieme che sono la misericordia di Dio e allora per incontrare Dio siamo chiamati a partecipare della sua misericordia e una via la via della misericordia è sicuramente quella del perdono che come abbiamo detto non vuol dire dimenticare qualcosa che è accaduto ma vuol dire rendersi conto della debolezza della fragilità della miseria dell'umanità e sentire che in questa debolezza in questa fragilità in questa miseria è venuta a risplendere la grazia di Dio che ci chiama a risorgere ad una vita nuova e allora non solo certo condanneremo il peccato ma come Dio fa con noi cercheremo di essere attenti alla vita del peccatore e quella parte che conclude questa nostra catechesi la parte nella quale diciamo che la misericordia di Dio ci educa ci educa ad avere attenzione all'ambiente ad avere attenzione alle persone ad avere attenzione alla società civile al rispetto dell'impegno proprio di ogni cristiano come cittadino ecco noi guardiamo la misericordia di Dio e sentiamo di volerci far educare di volerci far portare come Dio condusse il popolo di Israele nei 40 anni nel deserto perché potesse essere educato ad entrare finalmente nella terra promessa così questa Quaresima davvero contemplando la misericordia di Dio ci educhi ad essere misericordiosi e quindi a vivere con Lui misericordiosi come il Padre con Gesù figlio di Dio anche noi figli dell'unico Padre e allora capaci davvero di far risorgere un'umanità nuova Signore Gesù Cristo Tu ci hai insegnato ad essere misericordiosi come il Padre Celeste e ci hai detto che chi vede Te vede lui mostraci il Tuo volto e saremo salvi il Tuo sguardo pieno di amore liberò Zaccheo e Matteo dalla siavitù del denaro l'adultera e la Maddalena dal porre la felicità solo in una creatura fece piangere Pietro dopo il tradimento e assicurò il paradiso al ladrone pentito fa che ognuno di noi ascolti come rivolta a sé la parola che dicesti alla Samaritana se tu conoscessi il dono di Dio tu sei il volto visibile del Padre invisibile del Dio che manifesta la sua onipotenza soprattutto con il perdono e la misericordia fa che la Chiesa sia nel mondo il volto visibile di te suo Signore risorto nella gloria grazie a tutti